Clicca su Terminal Keypad per avere accesso al menu Terminal Customization. Selezionate l'icona Isobus sul quattro e clicca sul ticco verde per confermare. Clicca ora sul quattro e clicca sul ticco verde. Ora guardando sul ticco verde, ci sono tre icone. Iniziamo dal top, hai il botto Calibration. Questa funzione ti porta al procedimento calibrato. Guardate il tutorial calibrato calibrato per sapere come usare. Il secondo botto è il menu Calibration System del Isobus. Clicca sull'icona. Iniziamo dal top, trovate 4 botte. Yield, Vibration, Moisture e Calibration Temperature. Iniziamo dalla Calibration Temperature. Clicca sull'icona Temperature e vedrai il menu Calibration. Nel primo botte, vedrai la temperatura calibrato calibrato. Ricordate la differenza tra il valore calibrato calibrato e la temperatura externa, quando non c'è caccia nel elevatore calibrato calibrato. Clicca sull'icona Temperature Offset per entrare la differenza tra la temperatura externa e la valore calibrato calibrato calibrato. Come in questo esempio, se il combinatore è a 29 e la temperatura externa è a 30 gradi, dovrai impostare il valore a 1. Calibrato 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 calibr Per esempio, se il COMBINE si riega un off-set di 0% come in questo caso, e il testo riega 15, dovete impostare il valore a 15%. Se, per quale motivo, vuoi impostare un valore fixato per overriding il COMBINE moisture meter, clicca sull'empty white box vicino al manual override box, e poi imposta il valore con il numero pad e conferma. clicca sull'empty green box per finire la calibrazione. Calibrazione. La calibrazione è una calibrazione standard per tutto il sistema. Deve essere completato prima di tutte le altre calibrazioni e prima di usare il sistema monitor del monitor. Clicca sull'empty Vibration Calibration box e arriva alla procedura di calibrazione. Da qui, vedrai una lista di condizioni necessarie per fare l'operazione. Seguite l'instruzione fino a che la calibrazione rosso si riega a marco verde. Inoltre clicca sull'empty Calibration icon che avvicinerà sul basso della scena. La calibrazione di calibrazione ora mostrerà un risultato di 60 secondi. Lasciate il COMBINE running con trashing e header engaged e full engine RPM durante tutte le procedure. Ora il tuo calibrazione è setto. Calibrazione. La calibrazione di calibrazione è una calibrazione per il sensor di lode cell posizionato sul elevato del clean grain. Per fare questa calibrazione è necessario fargliere una determinata quantità di crema e fargliere la crema di crema sul basso. Vedete il tutorial di calibrazione di calibrazione per sapere come farlo. Calibrazione di calibrazione di calibrazione di colpi e rinziare il nostro virus. Voi tornare al punto di visualizzo 4 disini di calibrazione. Calibrazione di calibrazione al tavolo di calibrazza rinziare. per uscire il menu Aizobus.